Ciao a tutti, sono entusiasta di presentarvi le anticipazioni per gli episodi in onda dal 30 maggio al 4 giugno. Ma prima di continuare desidero esprimere la mia gratitudine per il vostro costante sostegno. Il vostro supporto rappresenta per me un dono importante e ti incoraggio se non l'hai ancora fatto a iscriverti al mio canale per non perderti le prossime sorprese che ho in serbo per te. La puntata di martedì 30 maggio ti trasporterà nel mondo degli Yaman e dei loro instancabili operai, tutti intenti nella frenetica ricerca del piccolo Adnan e della piccola Uzum. Sarà un episodio focalizzato su di loro, ma quando Vecchiele e Ilmaz faranno irruzione nella villa Yaman per offrire il loro prezioso aiuto, le tensioni del passato riemergeranno, scatenando conflitti inaspettati. E c'è di più. L'atmosfera si caricherà di un mistero avvolgente intorno a Zuleia, catturata e trascinata nel bosco contro la sua volontà dal proprio marito. Il suo destino rimane avvolto nell'incertezza, nessuno sa cosa le sia accaduto. Un enigma che rende l'intera puntata ancora più affascinante. Questo ha destato profonda preoccupazione in Unkar e negli altri. Nel frattempo la dottoressa Musgan dopo un acciso litigio con Ilmaz ha lasciato emergere tutta la sua gelosia, portandola a compiere un gesto sconcertante e a puntare ancora una volta al dito contro suo marito. Lui, esausto, ha finalmente perso la pazienza e gli ha rivolto parole pesanti. Da quel momento in poi Musgan ha preso la determinazione di allontanarsi definitivamente, dedicandosi a preparare le sue valigie per intraprendere un viaggio lontano insieme al figlio Kerem, diretto verso una località negli Stati Uniti. Nel frattempo, nella sontuosa demora degli Yaman, si ha inverto un'atmosfera carica di ansia e attesa, mentre tutti i membri della famiglia sperano di ricevere una richiesta di riscatto per i bambini rapiti. La tensione e l'incertezza alleggiano nell'aria, mentre ognuno si domanda sul destino dei piccoli e sulle modalità per riaverli indietro. In questo turbine di emozioni contrastanti si mesclano la paura, l'angoscia e la speranza di una risoluzione positiva. Nell'episodio di mercoledì 31 maggio si verificano due eventi di grande rilevanza, uno dei quali porta un senso di rassicurazione, mentre l'altro genera profondo sconcerto. Riguardo al primo evento, Adnan e Uzum vengono finalmente ritrovati. I due bambini avevano trascorso la notte in una baracca nel villaggio, causando grande preoccupazione a tutti coloro che temevano fossero stati rapiti. Ora, finalmente, si può tirare un sospiro di sollievo. Il secondo evento riguarda Zuleia. Dopo il suo ritorno appare provata ed esausta, avendo trascorso ore da sola nel bosco, perdendo persino i sensi. Demir, vedendola, reagisce con violenza, cacciandola letteralmente dal cancello della villa. Yaman non ha alcuna intenzione di accoglierla di nuovo in casa né di permetterle di vedere i suoi bambini. Il comportamento di Demir è il risultato di tutto ciò che è accaduto in precedenza con il suo cerrimo rivale, Ilmaz. Gli avvenimenti descritti hanno un impatto profondo sulla trama e sulle dinamiche familiari, generando un'emozione intensa e aumentando la tensione tra i personaggi. L'episodio di mercoledì offre un mix di rassicurazione e shock, lasciando gli spettatori nell'incertezza riguardo alle future evoluzioni della storia. Sarà interessante osservare come questi eventi influiranno il destino dei personaggi e quali conseguenze avranno sulle loro intricate e complesse relazioni. Nel coinvolgente episodio del primo giugno assisteremo a eventi ancora più sconvolgenti e scioccanti. Dopo essere stata brutalmente cacciata dalla villa e privata dai suoi prossimi figli, Zuleia si trova in una situazione disperata senza apparente vie di fuga. L'oscurità sembra avvolgerla completamente, tuttavia un flebile raggio di speranza si fa stradare nel suo tortuoso cammino, quando trova a sostegno Isermin, che le offre una mano amica. Ma Inmaz, il crudele antagonista, emana un ordine spietato, nessuno deve aiutare o confortare Zuleia. Così la giovane donna si ritrova abbandonata e sola, immersa in un'aura di disperazione che la logora incessatamente. Tuttavia, in un breve istante di tregua nella sua tormentata esistenza, Zuleia trama un momento di conforto grazie a Dunkar, che segretamente le offre l'opportunità di rivedere i suoi amati bambini. Ma questo momento di gioia è dissenato a svanire in un attimo, poiché Demir, ancora più furioso di prima, la rincore senza pietà e la sbatte nuovamente fuori dalla villa. Ormai provata e travolta dal dolore, Zuleia raggiunge il punto di contemplare un gesto irreversibile, da cui non potrà mai più tornare indietro. In un istante drammatico, di fronte a tutti, si copre di benzina in mezzo alla piazza, preparandosi a compiere l'impensabile. Ma proprio quando tutto sembra perduto, come un vero miracolo, Fecchielli si fa strada tra la folla e senza esitazione la ferma, portandola con sé verso la sua dimora. L'emozione raggiunge livelli inauditi in questa puntata carica di tensione e colpi di scena. Non perdete l'occasione di seguire il destino tormentato di Zuleia e scoprire cosa riserva il futuro per questa giovane donna. Resterete incollate allo schermo, sospesi tra la speranza e la disperazione, mentre la storia si dipana, svelando gli intricati figli del suo destino. La puntata del 2 giugno non sarà trasmessa a causa della Festa della Repubblica, ma la serie riprenderà sabato 3, con un episodio mozzafiato. L'emozione raggiunge vette ancora più alte, trascinandoci in un turbine di suspense e coinvolgimento. Le vite dei nostri protagonisti sono sconvolte da scelte che potrebbero cambiare irreparabilmente il loro destino. Musgan ha preso una decisione che sconvolge tutti, lasciare il suo paese e partire per l'America con il suo prezioso figlio, Kerem. Tuttavia, Ilmaz è disposto a tutto per non essere separato dal suo amato figlio. Una battaglia senza esclusione di colpi si scatena tra i due, mettendo in luce l'amore incondizionato e la determinazione di Ilmaz nel tenere vicino a sé il proprio figlio. Nel frattempo, Atip, l'uomo, viene a conoscenza della riapertura del caso dell'omicidio di Ciencavier. Questa notizia scuote il mondo e spinge Atip ad agire con una determinazione cupa e fredda. Avvia un piano segreto che coinvolge un insieme di cavalli, ma le sue intenzioni rimangono a volte nell'ombra. Tuttavia, si percepisce che qualcosa di grande e pericoloso si sta preparando. Alcuni testimoni della tragica vicenda di Zuleia non possono fare a meno di correre da Unkar per riferire la terribile notizia di quello che la ragazza ha fatto. Si preparano a condividere i dettagli che potrebbero addirittura cambiare il corso degli eventi. Tuttavia, quando Demir viene a conoscenza di ciò che è accaduto e scopre che Fechieri ha salvato Zuleia portandola a casa sua per darle conforto, decide di intraprendere una missione rischiosa per riportare la ragazza a casa. Nel frattempo, Ilmaz, coraggioso e determinato, si imbarca in un viaggio verso l'America per raggiungere sua moglie e impedirla di portare via il loro amato Kerem. Tuttavia, il destino inaspettato si intromette sulla sua strada dopo aver elaborato un piano astuto con l'aiuto dei suoi compagni. Ilmaz e i suoi compagni vengono arrestati per una vendita di provenienza illecita. Così le speranze di riunirsi con la sua famiglia sembrano svanire nel vuoto. L'adrenalina continua a pulsare nelle vene degli spettatori, mentre le vite dei nostri amati personaggi sono sconvolte. Il destino li tiene in bilico e solo il tempo rivederà quale sarà il loro cammino e come si risolveranno i loro destini intrecciati. Non perdete i prossimi avvincenti episodi che promettono di regalare ancora più colpi di scena. Il video finisce qua, se ti è piaciuto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!